Ciao, sono Ivan di Clinica del Cammino Progetto Fuoco. Nel video di oggi vi mostro l'installazione di una stufa a legna dell'annesto Marten. Il cliente è riuscito a trovarla usata su qualche sito. È una versione antecedente a quelle più moderne con il catalizzatore, ma vedrete alla fine che spettacolo. Andremo poi a intubare una vecchia canna fumaria per risanarla e renderla utilizzabile per l'attuale generatore. Se ti piace questo argomento, in fondo al video ti lascerò la puntata che abbiamo girato in Z linea e in cui parliamo in maniera particolare e specifica di questa azienda, l'annesto Marten e di queste stupe catalitiche. Ci vediamo in cantiere, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!